Parliamo di estorsione, parliamo di usura, parliamo di traffico di droga, di sfruttamento della prostituzione, di caporalato, parliamo di infiltrazione nel tessuto commerciale, di infiltrazione negli appalti e nell'economia cosiddetta legale, parliamo di riciclaggio. E quanto accade non in una città del profondo sud ma proprio a Genova dove da tempo pererebbero decine e decine di famiglie di indrangheta, camorra e cosa nostra, tutte rigorosamente segnalate in un dossier nel sito internet della Casa della Legalità, che ha deciso di uscire allo scoperto dopo che anche Marta Vincenzi ha parlato di mafia nel capoluogo Ligure. Il sindaco si è svegliato dal lungo sonno, ha detto quella che è la realtà, che tra l'altro basta che si giri per i determinati territori e si vede. L'allarme è lanciato dal cuore della Maddalena ma il fenomeno di controllo e radicamento sul territorio, secondo la Casa della Legalità, non riguarda solo il centro storico ma gran parte della città, da Rivarola, San Pia d'Arena, da Bolzaneta a Quezzi. Il problema è sapere riconoscere, sapere vedere e leggere i fenomeni che avvengono, sapere ascoltare i gridi di allarme che arrivano dagli abitanti e dai commercianti e soprattutto evitare quella cosa che le istituzioni fanno, che è diffondere la cultura e la pratica commertosa, perché quando le istituzioni negano il problema che la mafia esista, dicono che la mafia a Genova non c'è, non fanno altro che rafforzare le mafie. Due le proposte concrete a sindaco Vincenzi della Casa della Legalità, che ha indetto una manifestazione antimafia il 4 aprile in piazza Senarega, trovare una sede dove la direzione investigativa antimafia possa installarsi gratuitamente, così da poter utilizzare i soldi dell'affitto per scopi investigativi e trasmettere preventivamente alla stessa DIA e alla Guardia di Finanza i nomi di coloro che partecipano a bandi dove vengono assegnati i contributi pubblici.